vai a pio maronna mia maronna mia o mamma mia gisù che stima macchina rammisa ieri sei vacca ma rossa sta macchina do garage comunque la mattina io mi esaurisco troppo facilmente aspettate che bevo era un sacco fa freddo cioè guarda dove esce il brufolo già faccio comunque la mattina mi esaurisco troppo facilmente come devo fa proprio i bambini fanno tardi la donna mi esaurisco poi stamattina giuseppe la macchina stava da parte ieri l'ha messa un'altra che esaurimento vabbè vado ci sentiamo tra pochissimi bellissimo buone feste veramente molto molto bello maron bentornati nella revue comunque stamattina sono passata in gioielleria sono passata in gioielleria per volevo cioè volevo cambiare l'anello prendere una il rosario che mi ha regalato giuseppe e prendere mia fa brava e prendere una taglia meno ma niente non c'era un anello tutti quanti piccolini e quindi mi sono fatta prendere il fermanello settimana prossimo lunedì prossimo e invece qui il trilogy che avevo ho dovuto far raggiungere la pietra maronna mia mamma c'è una pietra si sta sentendo ma c'è mi ha messo pure la vestitina questa bambina è venuto frida però con questo vestitino mi sembri un maschietto la macchetta rosa vera mamma la macchetta rosa e quindi niente mi sono fatta metterla nel lo svaroschino anzi no svaroschino come ha detto lo zircone perché ha fatto lui diamante o ma quale diamante città un diamante per sempre che stanno zircone lo bene per sempre nel senso che lo devo vivare a casa secondo me per sempre vabbè che ne so io non so neanche i prezzi comunque tutto sommato raga mi costano 30 euro esagerando tra il fermanello e buca per caspita ma buon marono ma fa fritta a inoltre vi faccio vedere questo pacchettino che mi ha marone come profuma profuma in una maniera pazzesca vi faccio vedere bene me l'ha regalato una ragazza che io conosco personalmente è del paesino dove andavo prima a messa e fa questi gioielli crea questi gioielli allora il suo nome è edone ve lo faccio vedere anche qua io lo devo far vedere principalmente su instagram però siccome mi piace tantissimo ve lo voglio far vedere anche su youtube e vi fa fa anche le consegne cioè le spedizioni e vi scrivo qua sotto le spedizioni entro quanti giorni li fa secondo me è un ottimo questo è veramente spendendo pochissimo perché è bigiotteria buona ma che costa poco questo è qualcosa di stupendo sono sicura che vi piacerà e stavo dicendo è un ottimo regalo per natale bellissimo aspetta ve lo giro vi ho girato la telecamera e questo è il sacro cuore è bellissimo c'è sia argento e sia oro io l'ho voluto prendere così color oro visto che è bello tutto brillantinato nel contorno è veramente bello 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 allora io mi dico la verità il prezzo non lo so ma fatto sta che non dovrebbe costare tantissimo cioè non è che costa 30 50 assolutamente no ed è qualcosa di stupendo allora edone e non è comunque ve lo scrivo qua sotto sia su instagram e sia su facebook la trovate lei si chiama federica e poi mi ha fatto a parte che il pacchetto raga profuma di una cosa spettacolare poi ci ha messo dentro tutte le stelline la pagliettina e poi mi ha regalato anche questa pallina ed è bellissima allora questa è la pallina da mettere sull'albero con la mia lettera personale ma all'interno ci sono questi orecchini con l'albero di natale ma non è che carino pure qua dentro le stelline guarda ah edone ecco le qua marone che carini però la mia preferita scusate ma è la collana questi molto molto carini molto belli questo è il nome edone su facebook edone normale mentre su instagram così edone eh vabbè aspetta ve lo voglio far vedere anche qui io ve lo scrivo vedi edone giovrli comunque questi qua sono gli orecchini però pardon ma il mio preferito è lui ma poi c'è pure un'altra collana con la nina con un orsetto bello cicciottoso vabbè raga ma guarda che bella sta collana su dai eh che volevo dire che voleva è l'ho l'ho smoke ai che ve vabbè 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 Grazie. Grazie. Siamo? Cosa ci hanno fatto? È 46. Siamo? 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 Non so se vi ho salutato. Vabbè, ma al che vado, buongiorno un'altra volta. Accompagno veloce veloce Giuseppe e torno a casa. Vabbè, se ne si porto. Eh, questo perché le fognature tutte appilate. Ma aspetta, vi faccio vedere se là ci sta ancora una tutta che brondolava la fognatura. Eccola qua, queste? Prima tutta che si alzava. Dai, mia! Ma che stai leccando? Dai, cammina, su, vai! Dai, 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 dai! Dai! Non lo so che ho trovato per terra che lecca, ma non si caspa dei cani. Forza! Andiamo! Qua dentro la lascio sola perché sta tutto chiuso, non va a nessuna parte, eh! Andiamo, mia! Ho preso pure il panino a Cristian. Oggi è quel famoso martedì. E quindi avanti, indietro, indietro, avanti! Oh miseriaccia! Vieni, andiamo! Amici, eh! Oh, mia! Si è chiusa la posta! Mamma mia, che fa? Aspetta, abbiamo che fa? Non dice niente. Se andavamo, mia! Stavo durando. Vieni, ah! C'è, ma! Ah! C'è, ma! Andiamo, mia! Vieni qua, aspettiamo l'ascensore, qua! Eh! 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 Il famoso martedì, madonna! Ha piovuto tanto questa mattina! Uh! Stanchezza! Stanchezza! No, stanchezza! Beh, prima mattina la stiracchiata ci vuole, ci vuole! Vabbiamo, mia! No, scusami! No, scusami! Non ho capito questa cosa doveva essere! Un'allerta medio! Guarda quanto piove! Eh! Guarda quanto piove! Un'allerta medio! Ah! Oh, mamma mia! Come è brutto, regà! Poi è andato qui sotto! Perché stamattina, dovete capire! Per andare di fredda! Prima di scendere, non ho fatto la mia consueta pipì! Perché io prima di scendere ho fatto sempre pipì! Eh! Poi ora siamo in inverno! Io non so voi, ragazzi, ma col freddo! Mia mamma pure è così! Cioè, io ho ripreso da lei! Quando fa freddo, eh! Il bagno è il nostro migliore amico! Cioè, veramente! Ogni gocciolina! Che mamma fa? Ammigino! Eh! Hai capito? E poi stiamo usando un bar! Mi sono scesa l'ombrello! Perché oggi qua il tempo è veramente una... Chiaviglione! Ammigino! Aspetta! Ma eravamo si fiorata da porto! Ammigino! Ragà, vado a togliere la polvere! Maronna! Mi devo anche mettere sotto vuoto questa roba qua! Ho tolto il cuscino da mezzo per il momento! Perché comunque... L'altro cuscino l'ho messo in cucina! Quello là col pupazzo di nere! E quindi questo qua, vabbè! Lo... Me lo metto da parte! Vado a togliere la polvere con questo! Io l'ho pagato 1,50 euro dai cinesi! Ma è veramente ottimo! Vi lascia i mobili veramente puliti dalla polvere! Il giorno dopo non si ricrea tanto! E inoltre vi lascia lisci! Ma di una liscezza bella! Quindi uso il pannetto! Spruzzo! E così! E vado a pulire! E metto anche sti... Sti da pelini insomma! Almeno li utilizzo! Vedi? Vedi? Non c'è tanta tanta polvere eh! Vedi? Non c'è tanta tanta polvere eh! Vedi? No. Vedi? Andrador! Luka Hai? Oishoo con mekong, No Secondo me Cos'è perché ho sentito pure l'aria? C'è qualche buco Abbuffa niente Allora Queste buste sono belle Questa è una busta della lavanderia Si busto e si rompono Si rompono Com'è possibile? Ma è breve? Suo letto ormai che è tutto rotto Non si può alzare più Perché si è rotto il ferro che lo mantiene alzato È pericoloso, capito? Comunque io finisco un attimo Di togliere la polvere E poi vabbè ragazzi Solite cose, aspirapolvere Qua guarda l'antipannici ho da stirare Vabbè Sempre solite cose Oh chissima mamma Questo gioco De chiunque Ma che è questa voce? Ma no Nell'ora su Fortnite Neanche i torni Non sono già apprisi a Fortnite Comunque Ho rischiato di Ho rischiato Insomma Ho lasciato mia a casa da sola Voglio far vedere Si è mangiato tutto il tronco di questo alberello Per fortuna si è mangiato solo questo Non è che se lo mangio Fortunatamente Però rompe tutto Capite? Finalmente mi siedo Pranzettino mio di oggi Non si vede niente Questo qua raga È il mio pranzo di oggi Mo ci ho da mettere Un bel po' di grana padano E sono lenticchie Un po' di sedano Questa qua è la verza Che mi era avanzata di ieri E le carotine Invece a lui Visto che oggi è martedì Andiamo di fretta Panino con hamburger E provola Mi sa che è un po' di grande Il panino Mamma mia Allora noi abbiamo la prova Nicco È sempre tu che arrivi ritardo Non hai capito No Scusate Io gli ho prima ritardo a Davide Ho prima ritardo a Davide Cioè stamattina a ritardo Loro entrano alle 7.55 7.55 7.55 Ah le 7.50 suona Le 7.55 entrano in classe Praticamente la professoressa Gli ha messo il ritardo Di 6 minuti È entrato alle 8.01 Perché stamattina abbiamo fatto tardi Perché chi stava fare i panini Quaggiù stava chiuso Secondo me ha preso sonno Abbiamo dovuto fare i panini Un altro panificio Comunque un po' di parole Siamo arrivati tardi Pure Cristiano e Jacopo Sono arrivati Che già era suonata la campanella E quindi gli ha messo il ritardo Per 6 minuti Oh 6 minuti Sono 6 minuti No il 55 Eh il 55 E 8 sono 5 minuti A un minuto 8.01 Sei qui eh Piscina a mamma eh Io non ho fatto un po' per il garage Fa bravo eh Andiamo a prendere i fratelloni Andiamo a prendere a papi La rossa che quella è nata Ma raga Peggio di bambini piccoli Eh è nata che scappa Aspetta mamma Oh Iscele Dov'hai? Dai saliamo in macchina Vieni Salia Vai Vai Cupple Ma lei aspetta Invece io quando era piccolina Non potevo lasciare lo sportello aperto Che subito scendeva Se la faceva proprio a corda Invece adesso capisce Eh Eh Quindi aspetta mamma eh Andiamo dai Andiamo a prendere a papi Andiamo a prendere i fratelloni Comunque stasera penso proprio di fare Una frettata di spinaci E via Che non tengo proprio idee E va bene così raga Ma ora perché stai currando? E mi è più buona Finalmente ritornata Andiamo a... Oh amore Sei rimasto solo tu a mamma Perché c'è due flash Nel GF Comunque mi è piaciuto prima Che mi ha visto Giuseppe E ha detto Oh E come si bello oggi E ha detto Veramente io so Con una tuta Io so Quando non era tuta Ua prima c'era lui Che aveva la tua stessa giacca E ha detto Allora sarà il cappottino Che ti fa più bello Poi ha detto Tenga la coda alta Gli piace Già Forse Merone Comunque Siamo passati al deco Ho fatto scegliere all'oro Se stasera volevano la frittata O prosciutto e bocconcini Ma gli spiega già Che c'erano prosciutto e bocconcini L'ho fatto apposta Abbiamo preso prosciutto e bocconcini Questa sera E salsiccia Salsiccia e scaroma Ma non me lo fa portare niente Quanto è bello figlio mio Che telefono è? Non ti portare niente Non ti portare niente Non ti portare niente Non si bella Sti macchero Ma pesano Dammi ne uno Dammi questa Che pesa di più No pulisci dei piedi Pulisci dei piedi Pulisci dei piedi Loro già sono saliti Grazie E prova veramente La postazione della spesa Alla giù Grazie La ringrazio mille La ringrazio mille Io mi devo un attimo Il scacchio Io faccio sempre così Vedi lascio qua Prendo qua Oh va bene così Brava Allora Jacopo Lo zaino nell'ufficio Brava A proposito Signore Ma perché chiamo Quella senzetta Ufficio Perché all'inizio Ci avevo messo solamente La scrivania Il computer Quindi insomma L'hanno soprannominata Per distinguerla Dalle altre camere L'ufficio Però Certamente Che nessuno Fa l'ufficio Vedi Ma vi faccio vedere La spesa Che abbiamo fatto Al deco Mi sono fatta pure La carta Al deco Perché L'ha fatto E' nuovo Che secco L'ha fatto V L'ha fatto Ma lo proprio Allora Allora abbiamo preso La casa D'ificio Ma quanti cazzi Bocconcini Ma dove Questa Ah perché sono Le bustine Da quattro Mi ha dato Quattro buste Che dicevi Ok Scusate Sono quattro Bocconcini Quanto mi aveva Da? Sedici No Sono sedici Bocconcini Poi ho preso Questi Della Nuvegna Ermi L'offerta Eeeh Sto bene Diana Luca Poi ho preso Il pane Questa è quella Che mi hai mangiato Stamattina Con la di Elio Allora Continuiamo Il video Questi panini Qui Poi Procitto crudo Una bottiglia Di Coca Cola Della Benedetta Della Benicola Poi La cedrata Sempre San Benedetto Una Allegra Sempre San Benedetto Una Allegra San Benedetto Sarebbe La Bo La E Formaggio Rossa Con zucco Di agrumi Poi Abbiamo Formaggio E Salsicce Salsicce Altri Salsicce Due Salsicce Questi 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 Sono I taralli I taralli I taralli napoletani Sono buonissimi L'unica cosa È che sono Pienissimi di pepe Infatti puoi far male lo stomaco Ne basta proprio uno Salsicce 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 La scarola Fatti vedere Salsicce La scarola Ecco La qua Hanno preso i due Questa qua Sarà la cena per domani Salsicce Scarola E basta Ho formato La battere E che sia Così tanto Così tanto Abbiamo preparato Già per la cena Di domani E poi Ho preparato questo Quando i bambini Non c'erano Come fanno La tagliate No Anche le se spezzate In mano No Chi l'ha dato Eh L'ha pazzo No No, non lo tagliare, si spezza con le mani. Ciao ragazzi, come è chiamata? Io mi chiamo Giuseppe. Che pinnillo. Tirò tutto questo, diamo. Che godura. Grazie a tutti.